Siamo pronti per l'Ini nazionale, cominciamo in ordine alfabetico dall'Ini nazionale dell'Albania. Siamo pronti per l'Albania. Siamo pronti per l'Albania. Siamo pronti per l'Albania. Scadro 2006, One, Balatul, Nil. Un solo minuto, combinazione su punizione, schema vincente. Calcio d'angolo, attenzione la palla in aria e il portiere. Il tiro sul portiere, troppo centrale. Buona occasione per il Banatul dopo 11 minuti. La palla sul fondo, calpo di testa ravvicinato. Prova a ripartire, attenzione la spera, ancora buona. Con classe, ultima azione per Scodra. Ancora una finta, cross in aria, attenzione all'indietro. La palla in rete! Incredibile! Di testa, tocco di nuca all'indietro. Il secondo gol Scodra 2006. Albania in gol. Esulta la parte di pubblico della formazione albanese. Meritata anche l'inquadratura per i tifosi dello Scodra. e finisce il primo tempo Scodra 2006-2 Banatul, Romania 0. e finisce il primo tempo Scodra 2006-2 Banatul, Romania 0. e finisce il primo tempo Scodra 2006-2 Banatul, Romania 0. e finisce il primo tempo Scodra 2006-2 Banatul, Romania 0. Categoria B, under-17 Scodra, Albania 0. Ecco la coppa, ecco la coppa ragazzi! Assessore allo sport del comune di Rovereto, Franco Prisinghelli, consegna la coppa. rappresentante del Coni, Elio Pessato, consegna la coppa di consolazione, secondo posto, second place, Banatul. Un applauso, un applauso anche per Banatul, naturalmente è finalista in questa categoria. ma lo ringraziamo anche lui della collaborazione, della polizia, delle forze dell'ordine, naturalmente in questi giorni tutto è funzionato perfettamente e premia i vincitori, categoria B, dall'Albania, Scodra 2006. from Albania, Scodra 2006, eccoci qui! Prima volta a tornare della pace per una squadra dall'Albania e subito vittoria! Tanto tifo in tribuna dove sono i vipanesi! ecco gli la! Molte grazie e proseguiamo! . . . . la 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 si 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 Invitiamo tutte le persone a estendere lo stadio, sulla curva a nord, di spostarsi I fatti d'artificio non potranno essere effettuati finché rimanete lì Posizione vietata, grazie Dovete spostarvi dalla curva, dal lato di via Magazzol È impossibile rimanere lì per motivi di sicurezza Vi invitiamo a spostarvi, grazie, altrimenti non possiamo cominciare